Siamo qui davanti all'hotspot di Pozzallo, la prima tappa della partenza di questo nuovo viaggio di Over the Fortress per la rotta del Mediterraneo centrale e in particolare per il Sud Italia. Percorreremo più di 3.400 km in più di 31 tappe durante circa due mesi. Visiteremo non solo la Sicilia, ma la Calabria, la Basilicata, la Puglia per poi passare la Campania e concludere a Roma il 22 dicembre. In questo viaggio visiteremo luoghi significativi per le migrazioni, non solo luoghi tristemente noti come l'hotspot, ma come potrebbero essere anche il Cala di Mineo o i vari ghetti di sfruttamento lavorativo che si trovano in diverse zone del Sud, ma anche degli esempi di buona accoglienza, di microaccoglienza o di vera e propria autogestione da parte dei migranti del loro sistema di accoglienza e di integrazione. Ricordiamo che questa campagna è completamente autofinanziata grazie al crowdfunding su produzione dal basso e che è stata costruita tramite un network cresciuto negli scorsi mesi grazie al lavoro iniziato lungo la Balkan Route e proseguito in Grecia ai domeni e nei campi governativi. Questo gruppo utilizza non solo i media e internet per comunicare e per raccontare quello che appunto stiamo visitando, ma anche come vera e propria forma di organizzazione. Stiamo parlando di un network che vanta più di 15 città e che continuamente si aggiorna in modo da costruire questo viaggio veramente tramite una collettività e veramente tramite una spinta dal basso. Grazie 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 Grazie